Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, prima di cena vi do questa bella notizia, bella per Di Maio, brutta per noi, perché sono riusciti, attenzione, attenzione, a fare cosa? A riciclare Di Maio. Appena sarete collegati vi dirò dove, come, perché. È una cosa però a mio parere un po' un po' vergognosa. Guardate, guardate, sto leggendo l'articolo di oggi del tempo, il tempo.it, guardate, Gigino è felice, Gigino è felice perché sono riusciti a trovargli qualcosa da fare, incredibile, incredibile. Hanno trovato a Gigino una poltrona in Europa e questa cosa a me, personalmente, fa molto arrabbiare perché c'è gente meritevole, gente che è un Gigino che ha tradito e ha fatto l'inverosimile tutto, alla fine si becca un posto in Europa, una poltrona garantita. Lui che si beve il suo caffè, guardatelo, tutto felice, Gigino è felice, Gigino è felice, perché? Andiamo a leggere cosa dice il tempo, intanto buonasera a tutti, so che questa cosa qua, Loriana, vi farà arrabbiare, vero Franco? Buonasera Franco, ciao Giovanna, ciao Daniele, ciao Antonella, Terry, Daniele, vi chiederei di condividere, fate un condividi perché la notizia è veramente simpatica, è simpaticamente una vergognosa. Di Maio verso l'incarico per l'Unione Europea dopo l'ok di Draghi, quindi Draghi ci ha messo la manina per Di Maio. Ovviamente insorge Gasparri, una beffa per l'Italia. Io avrei voluto non vederlo più, sinceramente, anche perché non mi sembra, a mio parere, un rappresentante adeguato per l'Italia. Era ministro degli esteri, in modo in... chissà come mai perché è ministro degli esteri, ma adesso finisce in Europa. L'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio sarebbe in corsa per la carica di inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Attenzione, la Commissione Europea non conferma, ma neanche smentisce la notizia di Repubblica, data da Repubblica, ma fonti anonime che seguono il dossier parlano di ipoteci realistica che l'ex leader di impegno civico rappresenti l'Unione Europea in un'area cruciale dal punto di vista energetico, quale quella del Golfo Persico. Quello che mi chiedo io, Di Maio ha le competenze per andare a trattare dal punto di vista energetico gli interessi dell'Unione Europea? È un dubbio che mi pongo, magari la candidatura di Di Maio avrebbe avuto chiaramente benestare di chi? Di lui. Di Mario Mario Draghi. A chiedere di prendere provvedimenti su Di Maio e Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia, con un'interrogazione ai vertici del governo, chiede che il nostro esecutivo si attivi in sede dell'Unione Europea per evitare che vengano conferiti incarichi internazionali a Di Maio. A mio parere ci ha fatto vergognare anche abbastanza, anche troppo. Che ha dimostrato in anni recenti una totale inadeguatezza, mi sono impappinato, perdonatemi. È veramente inadeguato a quello che ha fatto fino ad oggi, secondo Gasparri. Un suo impegno in qualsiasi contesto, ammonisce l'esponente azzurro, creerebbe più problemi che soluzioni. La sua designazione, ancora di più, dopo un fallimento elettorale, un fallimento elettorale totale, sarebbe una beffa nei confronti dell'Italia. Dell'Italia che ha sonoramente bocciato Di Maio alle elezioni. Quindi, attenzione, Zegino riesce a ritornare in auge come inviato nel Golfo Persico per l'Unione Europea, per la Commissione Europea. È una cosa veramente, veramente vergognosa. Datemi un parere, cosa ne pensate? Secondo voi ci si può fidare di un'Unione Europea che ritiene adeguato Di Maio per andare a trattare nel Golfo Persico gli interessi energetici dell'Unione Europea. Vi sembra una cosa normale? Io l'avrei bene, benissimo, benissimo alla città nel Parlamento Europeo, come sta facendo adesso, per fare l'assaggiatore di caffè. Perché l'assaggiatore di caffè potrebbe farlo bene, secondo me. Questo però è un mio parere, è un mio parere satirico. Gigino, ce l'hai fatta a farti ridare un incarico? Sei incredibile. Io non so che Santi abbia in Paradiso Di Maio, ma qualche santo importante ce l'ha. E uno di questi si chiama Mario Draghi. Ciao a tutti, buona serata, buona cena. Facciamo una bella cena bevendo un bicchiere di vino dedicato a Di Maio che forse, forse, mano a mano, quattro quattro, piano piano, riesce a farsi dare un altro bel incarico importante dall'Unione Europea. Ciao a tutti!